Al ventesimo giorno di insurrezione in Libia, Gheddafi ha fatto scattare la sua controffensiva senza rinunciare all'arma della propaganda. Domenica Tripoli si è svegliata con gli spari delle mitragliatrici che festeggiavano quel che il regime ha presentato come la vittoria contro i ribelli nei principali centri del paese. Una messa in scena per cui il governo ha reclutato alcune migliaia di figuranti. Questo è il momento della vittoria, come potete vedere il popolo libico oggi ha vinto, noi siamo il vero popolo della Libia, nessuno in questa città, in questo Stato è contro Gheddafi. Ma la controffensiva del colonnello passa anche attraverso azioni militari. Le milizie lealiste, appoggiate da carri armati e aviazione, hanno attaccato Zawiyah e Misurata, rispettivamente a ovest e a est della capitale, e le posizioni ribelli vicino a Raslanouf, nell'est del paese. Gli insorti affermano di aver respinto agli attacchi a Misurata e Zawiyah, dove i combattimenti sarebbero stati ancora più intensi di sabato, impossibile fare un bilancio delle vittime in un conflitto che assomiglia sempre di più a una guerra civile.